Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Oggi, grazie a Konami, ovviamente, siamo qui con l'opening in anteprima del nuovo Structure Deck, il re Kremesi. Quindi, ovviamente il mazzo di Jakathas e Arciliano Dragorosso, con tutti i suoi supporti. Questo mazzo ovviamente uscirà il 21 settembre e noi adesso ce lo andremo ad aprire. Oh, finalmente possiamo andarcelo ad aprire. Era stato annunciato veramente tanti mesi fa e finalmente siamo arrivati al capolinea. Adesso vorrei vedere effettivamente cosa possiamo trovare. Davanti ovviamente abbiamo il mostro principale di questo mazzo in tutto il suo splendore, ovviamente, e sul retro ovviamente tutte le strategie del mazzo. Partiamo da Diapason Anima. Se questa carta viene evocata normalmente o specialmente, puoi aggiungere un mostro demone di livello 4 o inferiore del deck alla mano, eccetto Diapason Anima. Inoltre non puoi evocare specialmente mostri dell'extra deck per il resto di questo turno, eccetto mostri sincro oscurità. Se uno o più carte che controlli stanno per essere distrutte dall'effetto di una carta, mentre controlli Arciliano Dragorosso o un mostro sincrono che lo menziona, puoi invece bandire questa carta al tuo cimitero. Puoi utilizzare ogni effetto una sola volta per turno. Allora, carina. Il fatto di aggiungere è molto buono, soprattutto perché è generico fondamentalmente. L'unica cosa è che blocca per sincro oscurità. Diciamo che si buona, l'unica cosa è che altri mazzi che ne possono usufruire dovranno utilizzare questa meccanica. Inoltre carino il fatto che protegge la distruzione quando sta nel cimitero. Passiamo adesso a Diapason Visione. Anche questo mostro demone, questa volta di livello 2, anche lui Tanner. L'effetto dice, se sul terreno c'è un mostro oscurità di livello 5 o superiore, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Quindi ovviamente quando c'è Arciliano Dragorosso o qualsiasi altro. Puoi evocare specialmente Diapason Visione una sola volta per turno in questo modo. Se questa carta viene mandata al cimitero, può aggiungere una carta magia o trappola che menziona Arciliano Dragorosso, dal deck alla mano. Puoi utilizzare questo effetto una sola volta per turno. Ovviamente diciamo è la contrapposizione di Diapason Anima perché questo aggiunge i mostri e questo aggiunge le carte Magia e Trappola. Quindi molto buono perché comunque ti dà la possibilità di aggiungere qualsiasi carta che ti serve di quello che è l'archetipo. Andando avanti vedo un sincro, ok. Abbiamo la ristampa di Arciliano Dragorosso, ovviamente. Penso la riteniamo anche abbastanza scontata. Poi abbiamo Drago Crescente Rosso, anche questa ottima carta. Molto probabilmente in questo prodotto sono state inserite per l'extra deck tutte le carte che riguardano comunque l'archetipo. Quindi abbiamo Drago Crescente Rosso. Adesso abbiamo un mosto normale, re di tutti. Molto bellina questa ovviamente è la carta promo. Ovviamente ragazzi non potete giocarla, c'è scritto qua sotto. Questa carta non può essere usata in duello perché non ha livello, non ha niente, quindi è abbastanza scontato. Molto bellina come cosa e spero ovviamente che la Konami decida anche nei prossimi structure deck di inserire questo genere di carte promo. Ma andiamo a leggere un attimo la descrizione. A parte che c'è scritto umano. Mai successa una cosa del genere, ma vabbè. Un re folle un tempo abbandonò la sua terra e i suoi amici, ma la sua anima ferita venne salvata da un cuore compassionevole. Colui che è determinato e vive il suo stesso destino salverà il mondo e diventerà il vero re. Dispensatore di felicità e amato da tutti. Molto bellina. Ci sta da aggiungere in collezione. Poi abbiamo ovviamente Drago Supernova e Rosso, Arcidemona e Drago Rosso Rovente delle Calamità e poi Arcidemona e Drago Rosso Rosso Cicatrice. Si tratta di un mostro oscurità di livello 8, si evoca con un mostro Tanner più 1 più un mostro oscurità non Tanner. Il nome di questa carta diventa Arcidemona e Drago Rosso mentre è sul terreno o nel cimitero. Se questa carta viene mandata dalla zona mostri al cimitero puoi evocare specialmente un Arcidemona e Drago Rosso dal tuo extra deck. Questa viene considerata come un'evocazione sincro. Poi se questa carta è stata mandata al cimitero come materiale sincro, per un mostro sincro oscurità drago, puoi distruggere tutti i mostri in posizione di attacco controllati dal tuo avversario. Utilizzare questo effetto una sola volta per turno. Molto molto interessante, a parte che è un 3000-2005, però comunque considerate, voi la evocate, fate un'evocazione sincro insieme a lui e quindi lui viene mandato al cimitero. Si evoca Arcidemona e Drago Rosso, in più avete il secondo mostro sul terreno che avete evocato utilizzando lui come materiale. Quindi veramente forte come carta. Allora andiamo avanti, abbiamo Arcidemona e ossa. Vediamo cosa fa, si tratta di un mostro di livello 4. Se questa carta è nella tua mano o cimitero puoi mandare una carta alla tua mano o terreno al cimitero, evoca specialmente questa carta. Inoltre non puoi evocare specialmente all'extra deck per il resto di questo turno, mosti sincro oscurità drago. Quindi praticamente quasi tutte le carte bloccano per questa tipologia di carta di evocazione dell'extra deck. Inoltre puoi scegliere come bersaglio il mostro scoperto dei controlli che ha un livello, manda un tuner demone dalla tua mano deck al cimitero e se lo fai aumenta o diminuisci i livelli di quel mostro di uno. Puoi utilizzare questo effetto una sola volta per turno. Quindi praticamente puoi mandarti anima al cimitero e sfruttare il suo effetto da cimitero rimuovendolo poi. Allora andiamo avanti, abbiamo Diapason oscuro, Diapason della creazione, ovviamente avremo tutti Diapason. Abbiamo ovviamente Diapason Synchron, Diapason rosso, Diapason cremesi, Drago del vizio, Dissolvitore da battaglia, anche questa carina, Velocista rosso, Varg rosso, Re Errante Vento Selvaggio, Re Fantasma Hydride, Re Magico Luna Stella, Re Assoluto Backjack, anche questa come ristampa molto buona. Arcisema e Drago Rosso Assalto ovviamente per metterli tutti. Poi Bestia d'Assalto, Psy Riflettore, Formica di Fuoco Ascanor, Ascanor Camminatore dell'Alba, Pericolo Nessi, ottima ristampa per l'archetipo Pericolo. Stessa cosa il Chupacabra che comunque non aveva ristampe da veramente tanto tempo ed era molto difficile da recuperare ultimamente, soprattutto se lo si voleva giocare in mondo scuro. E per concludere con i mostri abbiamo Strega della Foresta Nera. Passando adesso alle magie abbiamo Forza Potere Assoluto, un'altra nuova carta per questo mazzo. Si tratta di una carta magia rapida. L'effetto dice Scegli come bersaglio un Arcisema e Drago Rosso che controlli. Se quel mostro che controlli combatte con un mostro e l'avversario in questo turno, applica questi effetti fino alla fine dell'alba magistera. Esso guadagna 1000 d'attacco, quindi praticamente arriva a un 4000 ed è molto difficile passarci sopra. Il tuo avversario non può attivare carte o effetti, anche questo non è assolutamente male per proteggere il mostro. Se esso attacca un mostro in posizione di difesa infliggi danno da combattimento perforante al tuo avversario. Quindi praticamente un 4000 con il diapasone al cimitero che lo rende indistruttibile. Il tuo avversario non può attivare carte effetti e infliggi pur danno. Non male. Vediamo cosa dice l'ultimo. Qualsiasi danno da combattimento che il tuo avversario subisce da quella battaglia viene raddoppiato. Bene, un 4000 che fa danno, che non può essere distrutto dagli effetti delle carte e che fa danno perforante. Doppio poi. Interessante. Diciamo che è molto interessante. Passiamo adesso a Gaia Cremesi che è una carta magia continua. L'effetto dice Durante la tua main phase può giungere un Arcisema e Drago Rosso o una carta che lo menziona dal deck o cimitero alla tua mano. Ok. Quando un tuo Arcisema e Drago Rosso dichiara un attacco puoi mettere coperti in posizione di difesa tutti i mostri controllati dal tuo avversario. Inoltre se uno più mostri sul terreno vengono distrutti in battaglia o dall'effetto di una carta puoi evocare specialmente un Arcisema e Drago Rosso dal tuo cimitero. Utilizzare questo effetto una sola volta per turno. Carta assolutamente niente male perché comunque ogni turno mi fa aggiungere roba. In più va in combo con potere assoluto perché comunque mette coperti i mostri avversari e quindi ho possibilità di fare anche danno perforante. In più mi rievo che roba da cimitero. Adesso poi quando uscirà il prodotto proverò assolutamente il mazzo. Andando avanti abbiamo motore di Apason, richiamo di Apason, commando di Apason, ovviamente anche qua tutte le carte magie di Apason, anima bruciante, giara della prodigalità, ottima ristampa assolutamente. Poi passando alle trappole abbiamo Golem Demoniaco. Si tratta di una carta trappola normale. L'effetto dice scegli come bersaglio un mosto sul terreno con un attacco 2000 o superiore, bandiscilo fino all'end phase del prossimo turno. Poi se è attivato questa carta mentre controllavi Arcidemon Drago Rosso o Mosso Sincro che lo menziona, puoi posizionare una catena demoniaca direttamente dal deck. Interessante perché comunque mi fa settare lei. Sfortunatamente fino all'end phase del prossimo turno però vabbè. Allora passiamo adesso all'ultimo supporto che è zona rossa. Si tratta di una carta trappola continua. L'effetto dice quando il tuo bersaglio attiva una carta, un effetto mentre tu controlli Arcidemon Drago Rosso o Mosso Sincro che lo menziona, puoi scegliere come bersaglio una carta sul terreno. Distruggi. Puoi scegliere come bersaglio uno dei tuoi mostri Sincro Oscurità Drago Manditi. Evocarlo specialmente. Puoi utilizzare ogni effetto una sola volta per turno. Carina perché mi leva sia carte problematiche che mi evoca dalle rimosse, cosa che ovviamente non faceva l'altra carta che mi evocava da cimitero. Passando avanti abbiamo Sincro del Re, Regno Rosso, il momento di arzarsi, Rinascita Potente, attivazione in modalità assalto per evocare ovviamente Arcidemon Drago Rosso Assalto, poi Terrore Sopra dei Radici e altri Sincro perché ovviamente prima non l'avevamo messi. Tra cui Arcidemon Drago Rosso Luce Sfregio, Arcidemon Drago Rosso Rovente dell'Abisso, Arcidemon Drago Rosso Rovente della Brutalità e per concludere Drago Nova Rossa. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente se lo acquisterete e se vi monterete il mazzo. Io ovviamente ragazzi la lista più avanti la porterò. E detto questo io ovviamente ringrazio nuovamente Konami per l'opportunità e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!